Il personaggio principale, oltre al maestro elementare che interpreto io, è uno scugnizzo di Capri che si chiama Aniello Pasquale. L'hanno preso negli Alpini perché lui a Capri scalava i faraglioni. Era, come dice lui, un alpino marino. Perché era un ragazzo del 99, 1899. Perché a un certo punto, quando hanno visto che se la mettevano brutto, gli altri Capri dello Stato Maggiore hanno rastrellato il lusco e il brusco e chiamato anche questi ragazzini. E questo Aniello Pasquale, che rappresenta tutta la giovinezza, la voglia e anche l'eroismo, è proprio il contrario di me. E io e lui insieme ci cosiamo che andiamo sempre più... Adesso non sto a raccontare i dettagli, bisogna vedere il film, inutile. Aniello Pasquale, vedrete, troppo forte.